Impianto deturpativo Un nome altisonante Cos'è sto coso? Ma sembra una granata con dei mitra Comunque alla fine ho scoperto Come cavolo ci fanno fare le schivate Con la R Con l'analogico R Il problema è che credo di aver capito Che faccia anche danno Non ha un cavolo di senso Che una schivata Faccia danno ma ehi Va bene uguale Vediamo se posso congelarlo No Fermati Te l'ordino Ecco fatto Allora Minchia quanti punti Allora vediamo un attimo Perché qua mi dice che c'ho dei potenziamenti Ma le ho fatti l'altra volta Vabbè Allora abbiamo detto a lui Mettiamo l'aeropattino Invece a Mr. Incredible La super mossa Perché la super mossa di Siberio Si è buona ma Mi sembra che quella di Incredible sia meglio Soprattutto perché questo attacco qui Mi sembra molto decente Tra l'altro Scusami un secondo Ah posso prenderli Ah Ecco dove era il barbatrucco l'altra volta Via da qua Ma quanta gente Vieni Incredible Facciamo un po' fuori sti strozzi Anche se La mossa qua di Siberio Fa molto meglio di quanto possa fare quella di Incredible Questa qui si è buona ma Ok no Pensavo potessi alzarlo Questa qui è buona Ma quella di Siberio lancia via la gente Non vorrei dirlo Puoi rovesciare i lampioni E come Scusami Ah ok Scusa Tenevo premuto triangolo e non me lo facevi Ok Uno è andato Vai Di qua Due Ecco fatto Qua invece Un altro Aspetta che arrivo Ecco fatto Aspetta 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 Eh ti pareva Ah aspetta un secondo Ah guarda vedi Il danno da schivata lo fa veramente E posso lanciare giù la gente facendo solo questo Perfetto Via Distrutto Perfetto Dobbiamo alternarli un attimo meglio Visto che l'altra volta Non abbiamo preso I punteggi per entrambi Come faccio Con le casse Ok Più che altro Quelle porte lì Sembra che si possano aprire Sky è qualcosa contro i nemici Siberio No Perché volevo che lo lanciavi Maledetto Allora aspetta un attimo Ok Spara Perfetto Bravo Beccati questo Maledetto Marrano Marrano Allora aspetta Sì lo so che avevi Lo scudo eh Non pensare che sia così scemo E vai tu Prendilo Prendilo Ah Aspetta Ecco Eh ne è arrivato un altro E quando mai Ok Siberio Distruggilo Sto scudo Piu 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 Beccalo 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 Perfetto Ok Beccati questo Stronzo La schivata in realtà Ad averlo scoperto prima che Faceva anche danno L'avrei usata Fin dall'inizio È utilissima per scagliare via i nemici Ad averlo saputo prima Davvero eh Bravo Così si fa cavolo Quello era un colpo Incredible Distrutto Ecco fatto Ora distrutti Vieni che possiamo passare Finalmente Facciamo cambio Non lo so Ma sbrigati Prima che cadi di sotto Ah Cavolo Eh già Non sia mai che la tua super tuta Poi puzzi no Non sia mai che non la puoi portare In sartoria C'è qual Ecco stavo dicendo C'è qualcun altro Ecco fatto Voglio buttarti di sotto Niente Non Non posso buttarlo di sotto Ma L'ho distrutto rotolando Quindi Ho comunque Ottenuto una vittoria oggi Vieni qui Bravo Porca miseria Davvero Ad aver saputo che la rotolata faceva danno L'avrei usata fin da subito Sbrigati Sbrigati Prima che collino a picco Corri Ho capito bene Dovremmo saltare sul prossimo container Prima che quello che abbiamo Solti Ma va Davvero Esattamente Chi l'avrebbe mai detto Aia Questi cliché da videogiochi Aspetta Vediamo se c'è qualcuno E vediamo se lui si scongela No Via allora Dio mio Allora A parte Che lancio che gli ha fatto Non è stato bellissimo E' caduto di sotto No Bravo E' una chiatta Siberius Una barca Che differenza c'è Beh Marca è un po' generico Come termine La parola chiatta Indica una grossa imbarcazione A fondo piano Usata per il trasporto Via Ehi Siberio Dove è finito Ma E' caduto di sotto Nella melma E vabbè Aspettiamo Che ti devo dire Proteggere la melma Non siete benvenuti qui Vabbè Grazie Fa piacere Siberio Poraccio Come cavolo sei caduto di sotto Lo sei solo tu eh Seguimi più da vicino Vieni Ma Ah ok no Pensavo fosse Interagibile Aspetta Congelami questo Per favore No Non colpirlo Cattivo Incredibile E penso di sì Porca di quella miseria Smettila Sto cercando di farteli lanciare Cretino Vabbè Ormai siamo arrivati Voglio dire Voglio dire Siamo arrivati Che senso ha più l'angiaglio Di qua Perfetto Uno Due C'è per caso Un oggetto segreto Da queste parti Niente male Oh no Stanno affondando Eh ormai è troppo tardi Dovrò aspettare le prossime Immagino no Allora uno Ah aspetta No Allora Muoviamo Muoviti 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 Prendilo No Quello sbagliato No No Avevo finito gli oggetti Vabbè dai Almeno abbiamo ricominciato Non troppo distanti Sbrigati Vieni Siberio Incredibile Davvero Niente male Su Forza Andiamo Ecco fatto Via dalle balle voi Ho detto Via dalle balle Ecco No Già voi Via Già sono morto Nella melma Per sbaglio Di qua Perfetto Dobbiamo fare Un po' alternato Dobbiamo Fare uno e due Scusa un secondo Ci sono altri oggetti Però Può congelare la fontana Ma non è vero Io ci ho provato Vedi Non me lo fa Ah Ma va a cagare Devo tenerlo premuto Per un tempo Per un tempo indefinito Eh ho capito che posso congelare la fontana Ma non me lo fai Allora uno E due Ma Porca di quella miseria Bob Allora uno Fammi un altro Vabbè No Bob Quello sbagliato Vai vai Ma porca di quella miseria Siete troppo vicini l'un l'altro Via Allora uno Fammi un altro Per favore Siberia Un altro Me ne serve Guarda Ma porca Allora uno Dai vai 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 Che ci sono le casse Lanciamo le quelle No Due Sbrigati Ecco fatto Ecco fatto Ecco fatto Dio mio Comunque Veramente Sti nemici sono terribili Fanno Abbassare il framerate A dei livelli A dei livelli Terrificanti Ma è colpa di questi qua Che sparano Perché Rallenta Solo quando ci sono loro Fermati Perfetto Andata Quando ci sono Quelli lì Che sparano le granate Il gioco Diventa terribile Mi sta dicendo Che ce n'è un altro No c'è lui Via da lì Fermati Te l'ordino Vai Incredible Lancia io Le faccia Le hai lanciate In faccia A quello sbagliato Maledizione a te Ecco Fatto Oh Finalmente Dobbiamo Congelare Sti cosi No Di qua Ah ok Non Vai Congelali Cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic cavolo io penso che possiamo anche passare senza abbassarla tutta ma comunque qui perfetto però vedi ah no ok l'altra volta mi sembrava che il super colpo passasse da uno all'altro in realtà non è così no triangolo triangolo bob ecco fatto vieni tu siberio e se ti avvicini a un coso rotante che gira così veloce ci credo anch'io che ti fai male bob o cavolo fermalo ah beh effettivamente c'è ancora qualcuno effettivamente non ha tutti i torti vieni proseguiamo abbassa la leva ecco fatto ma queste ma va forse a evitare che quei cosi la ti lanciano le bombe no e dai e vabbè comunque è morto dai vedi questo lato positivo maledizione dai beccalo questo oh e dai oh cacchio ecco cosa servivano gli scudi vediamo se posso rotolare allora aspetta 3 2 1 ah vabbè allora si può rotolare ma è meglio saltarlo a questo punto perfetto almeno loro prendono danno ok lì c'è un altro super potenziamento attento siberio c'è ancora il tizio che spara congelalo oh e vai aspetta ecco fatto si 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 ma l'importante è che arrivi la poi il minatore può fare quello che vuole beh in realtà no però ci siamo capiti allora dai 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 beccati questo allora questo giro lo darei a siberio aia il super no incredibile dammi il potenziamento perfetto mi sembra mi sembra che da uh aspetta che da quando abbiamo potenziato lo skateboard qua di ghiaccio lo tiene per molto più tempo ma non vorrei dire una cavolata e tanto non posso fare niente finchè lui non torna allora aspetta no perfetto allora vieni qua un secondo vediamo se riusciamo a colpirli colpisci ok yes perfetto a parte che è congelato mmm gli scudi non durano un cavolo dove vai tu vieni qui comunque a questo giro siamo stati bravi abbiamo 2050 2090 che bene o male va bene per entrambi ecco fatto ecco cosa servono i super laggi laser passiamo siberia è passato attraverso il laser e non ha preso danno questa è un'ingiustizia è ingiusto nei miei confronti questo avere il oh ma ciao stavo dicendo aver eliminato i robot con la mossa di Siberia è stato veramente una gran mossa questa dovrebbe essere l'uscita eh meno male eh vabbè dai iniziamo a far uh aspetta allora iniziamo a far avvicinare questi bravi beh mettati questo perfetto ottimo ci siamo ah ce n'è ancora uno vivo dai su 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 spara spara colpito e anche affondato va incredibile vai colpisci Siberio ok allora vai rimuovi l'armatura ah oh no è una roba minchia che colpo è una roba a tempo dannazione allora uno di qua due dai 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 perfetto ok niente più impianto di deturbazione ecco fatto oh ma comunque hai capito il minatore guarda qua quanti cavolo di robot perfetto distrutti no vabbè volevo colpirlo con la schivata ma non ce l'abbiamo fatta perfetto dai che ci siamo non c'è più nessuno ok proseguiamo finalmente cos'è è arrivato nel ghiaccio non gli siamo proprio simpatici eh no direi di no così un'altra volta non ci inviteranno così non ci inviteranno hai ottenuto 750 punti esperienza e siamo saliti di livello danni da schivata da pattinata 35 schivata 90 sconfitte 2 diciamolo ah beh però aspetta una è colpa mia ok e una e una però sono morti da soli no e dai ah beh certo imbattuto giustamente siamo morti che stupido allora io farei farei il raggio congelante così congelia ah no ma non abbiamo punti solo incredibile ce l'ho oggetti congelati cos'è più danno dal lancio e io farei il super pugno vai grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti